La montagna non può essere vista come qualcosa, come una palla al piede che Regione Lombardia si deve tirare dietro. Lo devo dire in questo contesto perché se no, Assessore, quando lo dico, visto che non possiamo mai confrontarci. Purtroppo la montagna dovrebbe essere vista come una risorsa e non viene vista come una risorsa. La nostra regione ha fatto tanto, ha fatto tanto per la terra da dove vengo, per la provincia di Sonzeo, ma la montagna non è solo provincia di Sonzeo. Abbiamo tantissimi territori marginali nella nostra regione che sono esclusi dalle politiche importanti che abbiamo fatto in questi anni e lo dico con l'amarezza nel cuore perché se non sappiamo cogliere quel segnale di disagio, quel segnale di attenzione che viene da questi territori credo che ne pagheremo le conseguenze pesantemente al prossimo appuntamento elettorale. La gente di montagna non è stupida. La gente di montagna sa ragionare a volte anche di più di altri perché le difficoltà costringono a ragionare. La gente di montagna sa essere comprensiva perché capisce benissimo le difficoltà a cui stiamo andando incontro, capisce i tagli che stiamo subendo dallo Stato centrale, capisce la ristertezza vergognosa in cui Regione Lombardia è costretta ad approvare il proprio bilancio. Ma, Assessore, guardami in faccia, non può essere un fastidio parlare di montagna in quest'Aula. Te lo chiedo ufficialmente. Va bene questa mediazione ma non può essere accettata come un'elemosina che viene data ai territori di montagna. Il territorio di montagna è il 50% quasi del territorio di Regione Lombardia. Ci sono oltre 500 comuni che sono classificati come territori interamente montani. Basterebbe un piccolo segnale di attenzione rispetto ai tanti che abbiamo dato alla città metropolitana, all'Aller di Milano, ad Expo, all'autodromo di Monza e a tanto altro che giustamente abbiamo fatto ma che esclude completamente il resto del territorio di questa Regione. E quindi permettetemi questo sfogo, visto che è anche una delega che faccio fatica ad esercitare, francamente, permettetemi questo sfogo perché ha senso quest'anno, non l'anno prossimo, quando la legislatura sarà finita. Perché qui lavoriamo tutti nello stesso interesse che è quello dei territori e di dare una risposta alla gente che ha bisogno. Ribadisco, consapevole delle difficoltà a cui stiamo andando incontro. Però mi rendo conto che a volte, quando qualche soldino si vuole trovare, si trova. Per questi territori è sempre stato difficile avere delle risposte. Abbiamo un segnale di allarme che viene lanciato da oltre 400 sindaci che hanno scritto al nostro Presidente chiedendo un ascolto. E a quei 400 e oltre sindaci dobbiamo una risposta. Io, francamente, mi aspettavo che con mille difficoltà quell'emendamento che era stato presentato potesse essere accolto integralmente. Ma va bene così.